Questa è un'iniziativa volta a coinvolgere da un lato commercianti e dall'altro cittadini e poi integrarli anche in un sistema che è quello del web marketing. Si chiama Selfie Shopping e durerà per tutto il periodo delle festività. Come è stato organizzato? Inizia il 6 dicembre e finisce il 6 gennaio con una premiazione, una cerimonia di premiazione entro la fine di gennaio. Il Selfie ormai è diventato uno strumento anche per i piccoli negozi per promuovere e per fidelizzare i clienti. Ormai se ne fa un uso l'autoscatto nell'acquisto è diventato mania e soprattutto abbiamo detto che gli uomini sono maggiormente fedeli all'uso dell'autoscatto e questo per due motivi principali perché c'è maggior bisogno di condividere l'acquisto quindi con il capo prescelto, con parenti, amici e conoscenti o anche come forma di divertimento anche solo per dedicare l'acquisto effettuato ad una persona cara. L'iniziativa è finalizzata a stimolare l'acquisto soprattutto nelle aree centrali di Chieti e si interagisce anche con la tecnologia oggi? Sì, questa iniziativa della ConfCommercio che si realizza con il contributo nostro della Camera è un'iniziativa decisamente interessante perché è un'iniziativa di simpatia perché utilizza uno strumento molto frequente, molto giovanile ma non solo giovanile che è quello del selfie per promuovere gli acquisti in un momento in cui si spera di uscire la crisi.